ciao amici questa sera si cambia argomento e parliamo di qualcosa di veramente eccezionale un prodotto estremamente performante e soprattutto sicuro per il nostro motosport il nuovissimo rp h11 hgc nuovo casco performante sia in pista che fuori per soddisfare le vostre esigenze sia a livello di comfort prestazione aerodinamica dunque ho voluto prendere proprio lui come esempio il mio casco che utilizzo nel mio tempo libero nel mio free time sulla mia mini modo da competizione per divertirmi e passare delle stelle mie giornate questo speciale modello rispetto ai vecchi viene fornito da un imbottitura interna che è realizzata con tessuti traspiranti antibatterici veramente performanti che permettono rapidamente un assorbimento dell'umidità studiato sempre per le condizioni estreme questo casco viene fornito con entrambi le visiere sia fume scura e quell'anti appannamento ma soprattutto è stato studiato per una visione più ampia da offrire a chi lo indossa per una migliore visione estremamente periferica sistema direi rapido e veloce per quanto riguarda l'installazione e la rimozione di una visiera grazie al suo sistema soprannominato rapid fire amici acquistarlo non vale la pena ma forse qualcosa di più proprio per questo invito tutti quanti voi ad esserci questo weekend per il penultimo round del campionato italiano velocità 2017 per vedere i nuovi modelli star wars indossati da davide stirpe e nicola morrentino in una battaglia che si preannuncia epica ciao ragazzi vi aspettiamo